Presentata la nona edizione di Gate Gusto Stop and Star e Terre Sole, il Mediterraneo Food Festival presso l'Istituto Einaudi di Foggia. La conferenza stampa ha visto la partecipazione dell'assessore della Regione Puglia all'agricoltura, risorse agroalimentari Leonardo Di Gioia, il padrone di casa, il dirigente scolastico dell'Istituto Einaudi Michele Gramazio e i rappresentanti delle associazioni e degli enti che condividono il percorso fieristico. Il recupero di un'autentica dimensione di socializzazione nella consapevolezza che la convivialità gioca un ruolo fondamentale nel favorire il tramando generazionale ed un approccio equilibrato all'alimentazione. L'accessibilità vale a dire la possibilità da parte dei consumatori di accedere a un'offerta alimentare ampia e di qualità. La progressiva evoluzione di naturalità da intendersi come una serie di interventi minimi e strettamente legati alle varie fasi della filiera agroalimentare fondati sulle migliori conoscenze disponibili. La contaminazione inteso come integrazione tra le varie culture attraverso l'alimentazione. Questo è l'auspicio di Daniele Circello, organizzatore degli eventi che si svolgeranno presso l'ente Fiere di Foggia i prossimi 24, 25 e 26 marzo.